Hello guys! Allora, sono in macchina con il nostro Raffaele Oliva stiamo in giro per sovralluoghi oggi tutta la giornata e niente, volevo fare un'osservazione sul video pubblicato questi giorni semplicemente dove ho ricordato che esiste una norma 71-29 cioè dove naturalmente obbliga allo scarico in canna fumaria nel caso di una combustione a gas o altro tipo di combustibile naturalmente tanti colleghi mi hanno scritto in privato, mi hanno telefonato addirittura anche la ASL, due ASL mi hanno chiamato per avere maggiori dettagli quindi la norma è semplicissima quindi quando c'è una combustione che possa essere combustibile solido, liquido, gassoso eccetera eccetera è necessaria la canna fumaria la canna fumaria sempre, anche le canna embrali hanno bisogno della canna fumaria un esempio per farvi capire quindi invece fino a oggi è sempre vissuta la regola dove io non do fastidio con lo scarico a parete quindi di conseguenza va bene così, no non va bene così assolutamente non va bene così ok, quindi qualsiasi cosa se mi serve ancora qualche ulteriore delucidazione sono sempre la vostra risposta buon lavoro a tutti buon lavoro a tutti